Ciao Mauro, buongiorno. Buongiorno Elia. È la prima volta che facciamo un video insieme. Verissimo. In realtà noi ci conosciamo, ci conosciamo già da qualche anno, ci siamo conosciuti anche dal vivo, io sono stato anche al paese di cui sei sindaco, sono stato tuo ospite a tenere un paio di conferenze, questo negli anni passati, quindi vuol dire che questo significa anche che il tuo impegno parte abbastanza da lontano. Ma probabilmente qualcuno ti ha già visto su questo canale o anche altrove, tanti frequentano il tuo canale, la scuola di filosofia di Fornace, però possono trovare anche su questo canale una presentazione di un tuo libro, cioè una conferenza che tu tenesti a Rimini e che io veni a filmare e che poi pubblicai, e riguardava la presentazione di un tuo libro. Ma forse è il caso Mauro che ti presenti un po' tu, prima di iniziare la nostra discussione, diciamo. Beh, innanzitutto Elia, mi permetto di ringraziarti per questo invito, fa piacere anche perché è un modo per discutere di cose serie e di argomenti che magari tendono a essere messi in secondo o terzo piano. Allora io sono Mauro Stenico, classe 1983, così facciamo una presentazione completa, Elia. Attualmente, beh, una cosa l'hai già detta tu, sono un pubblico amministratore di questa piccola realtà, che è un paese, un borgo di montagna molto bello in realtà, che si chiama Fornace, in provincia di Trento. Siamo circa 1320 abitanti, ho anche un altro lavoro presso un'altra sede, e tra l'altro cerco anche, per quanto mi è possibile, di mettere a disposizione quel poco che sono riuscito ad apprendere nel corso degli anni attraverso pubblicazioni e articoli, anche attraverso conferenze. In modo particolare, tu hai accennato all'esistenza della Scuola di Filosofia di Fornace, poi magari approfondiremo anche questo argomento, se c'è piacere di farlo. E sì, ci ritorniamo, ci ritorniamo verso la fine magari. Perfetto. Esiste virtualmente, nel senso che c'è il canale YouTube, che si chiama proprio Scuola di Filosofia di Fornace, nel quale cerco di mettere a disposizione video su vari temi che hanno a che fare con la filosofia naturale, con la cosmologia, ma anche con i rapporti tra scienza e fede e altre tematiche filosofiche. Beh, ultimamente ha anche tematiche non filosofiche, mi pare, o almeno non prettamente. Mi pare che tu abbia scritto qualcosa anche sulla moneta. Esattamente, esattamente. Che in realtà però Elia con la filosofia ha molto a che fare. D'accordo. Perché se noi stiamo alla teoria del professor Giacinto Auriti, e alla fine il libro prende le mosse della filosofia auritiana, il problema della moneta è un problema di natura prettamente filosofica, filosofia del diritto, quindi prettamente giuridica. Noi pensiamo che sia una questione attinente soltanto al mondo della finanza e dell'economia, ecco, in quel libro si cerca di dimostrare come in realtà non sia così. Quindi filosofia e moneta sono comunque due temi altamente connessi, direi. Infatti anche Auriti spesso fa riferimento alla filosofia, naturalmente. in tanti suoi interventi televisivi, quelli che faceva al tempo. Io ho qua un tuo libro, che tu mi hai regalato e te ringrazio ancora, La ragionevole creazione. Questo è solo uno dei diversi libri che tu hai scritto. È un libro di 900 pagine circa, che io ho letto. Ecco Mauro, in questi ultimi tempi, di che cosa ti stai occupando in particolare? Allora, guarda Elia, in realtà... Perché questo magari potrebbe interessare chi ci sta vedendo, chi ci vedrà, chi ci ascolta. Allora, guarda, io devo dirti che nel corso della settimana ho cercato, per me personalmente, di buttare giù un programma di studi, nel senso che a seconda della giornata, della settimana, il mio studio, devo sacrificare alcune ore della notte per poterlo fare, starci dietro col lavoro, ma sono disponibilissimo a farlo, spazia dal campo della cosmologia, più specificamente sarebbe la filosofia della cosmologia, biologia e diciamo anche della filosofia barra teologia. Per esempio, in questo momento sto lavorando con una certa intensità sulla filosofia e sul pensiero teologico di Santo Maso d'Aquino, esposto nella Somma Teologica. Perché questo? Perché ritengo che Santo Maso d'Aquino, a parte essere un autore di riferimento fondamentale per la tradizione cattolica, a parte questo, possa darci degli strumenti enormi, degli strumenti fondamentali per affrontare questioni attuali, questioni attinenti all'attualità. Quindi, oltre a essere un maestro della teologia, è un autore che ha spaziato a 360 gradi e con il quale si possono toccare veramente tutti i temi. Allora parliamo del tema dell'aborto, quando inizia la vita? C'è il discorso, insomma, dell'animazione ritardata o di altri. Comunque, l'embrione è vita fin dal primo istante del concepimento. Il tema dell'eutanasia, cioè, Santo Maso, anche se non usa questa terminologia, ci spiega, Elia, perché una persona, una natura razionale come quella dell'essere umano, tale permanga, anche se ad esempio a causa di una lesione del cervello, non sia in grado di esprimere la propria natura razionale. Quindi, sono riflessioni che veramente possono aiutarci nella modalità. E ultimo riferimento che mi permetto di fare è anche il fatto che Santo Maso, siamo nel XIII secolo, tocca il tema della moneta, anche egli. Nel De Regimine Principum parla dell'importanza di avere moneta propria per il sovrano e di non riceverne a prestito. Quindi, pensiamo un po', siamo otto secoli fa, Elia, quindi pensiamo alla fecondità di questo autore. Ecco, ma non è, Mauro, che la, chiamiamola, cosiddetta, perché io mi sento di dire, la cosiddetta scienza ha invaso gambi non suoi? Assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, sarei felice, se possibile, di poter anche proporre a chi poi ci seguirà una personalissima ricostruzione che ho tentato di fare del percorso che ci ha portato alla scienza materialista di oggi, se sei d'accordo, Elia. Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. È un tema fondamentale da capire, quindi invito magari chi ci sta ascoltando di fare molta, molta attenzione, perché è un qualcosa di fondamentale da capire. E credo che tu abbia anche previsto dei passaggi cruciali. Assolutamente. Perfetto. Allora... Sono tutto orecchi anch'io, vai. Guarda, innanzitutto premetto che questa è un'ipotesi di lavoro che io propongo. Nel senso, non ho nessuna pretesa che sia accettata, però dagli studi che ho potuto fare, dalle opere che ho potuto leggere, di autori specialmente seicenteschi, e poi confrontandoli un po' con la filosofia dei pensatori precedenti, mi sono fatto un'idea. Mi sono fatto un'idea. Io credo che abbia un certo fondamento, poi per carità è sempre rivedibile, perché è perfettibile, se possono portare vari dettagli, però proverò a esporla. Mauro, volevo solo aggiungere che il 600, almeno secondo me, fu un secolo veramente importante in senso anche negativo, in senso anche negativo, dal punto di vista filosofico, cosiddetto scientifico, parlo di Cartesio, parlo di Galilei, parlo di questi personaggi. Comunque lascio a te la parola, prego me. Allora, guarda, io inizierei con una breve riflessione. L'ho proposta recentemente anche sul canale di La Scuola di Filosofia, un video brevissimo. Mentre mi trovavo in ferie qualche settimana fa in una località, diciamo del Trentino, stavo camminando sulle montagne in compagnia di mia moglie, un pensiero che è un pensiero in realtà banale, che hanno fatto tantissimi altri autori studiosi di filosofia, quindi non è che sia una cosa che ho elaborato io. Allora, mi rendevo conto, guardandomi attorno, delle montagne e di un paesaggio meraviglioso. E la riflessione era questa. Noi abbiamo la scienza naturale, la scienza naturale si divide in chimica, fisica, poi c'è la biologia, poi c'è la botanica, ce ne sono finché vogliamo, la stessa geologia. Chi è in grado di spiegarci, per esempio, come si sia fornato il pianeta nel corso del tempo, quindi processi geologici, come si siano formate le montagne, quindi materie affascinanti. Però una cosa che non è in grado di fare la scienza naturale, perché non... Che riguardano la materia, ma che riguardano la materia. Esattamente. Una cosa che non è in grado di fare la scienza naturale è spiegarmi perché quel panorama sia bello. La bellezza di un panorama montano, la scienza naturale non me la sa spiegare, mi sa spiegare come sia nato il panorama montano, ci mancherebbe, no? Anzi, massimo rispetto, sono spiegazioni veramente anche affascinanti da un punto di vista scientifico. Ma perché quel panorama lo trovo bello, lo trovo armonioso, meraviglioso, ordinato? L'universo, la scienza, la fisica, la cosmologia, mi spiegano le leggi dell'universo, la legge di gravitazione, la legge di attrazione tra i corpi, quindi mi spiegano tantissime cose, la legge di inerzia, tutto quello che vogliamo. Ma io mi rendo conto, studiando queste cose, che noi abbiamo a che fare con categorie, ordine, vero, bello, buono, che non sono altro che alla fine alcuni di questi, i trascendentali, dei quali parla Santo Mosso stesso, che sono categorie che può cogliere solo l'intelletto. Quindi vi sono aspetti dell'essere, della realtà. Che non riguardano la materia. Allora, che, attenzione, io direi che sono nella materia, ma che non possono essere colti da qualsiasi essere, bensì da un essere che è intellettuale, che è razionale, come per esempio l'uomo. E che non possono essere colti, direi anche questo, non possono essere colti da scienze che prettamente si limitano alla materia. D'accordo? Come la geologia. La geologia mica mi spiega il bello della montagna, mi spiega come si forma la montagna, la conformazione. È chiaro che, per cogliere questi aspetti, io devo andare oltre, e devo adottare quello che è è lo strumento filosofico, in particolare lo strumento della metafisica, che mi porta al di là della fisica stessa. Che consiste in che cosa, Mauro? Scusa? E che consiste in che cosa, questo strumento della metafisica? Allora, la metafisica è quella parte della filosofia, se vogliamo, che a partire dallo studio, dallo studio degli aspetti naturali, materiali, mi porta a individuare quelle che sono le categorie ultime dell'essere. Ad esempio, il fatto che nell'universo tutto sembri agire per un fine. Io studio la biologia, prendo in mano un libro di biologia, vedo la cellula, vedo il DNA, vedo come le cellule interagiscono fra di loro, lì è lo studio della biologia. Il perché, quindi l'idea di fine, che penso che in biologia sia una cosa, oggi viene messa d'accanto assolutamente, non si può parlare di finalismo, ma per la filosofia, emerge con chiarezza, nel studiare le dinamiche, diciamo del micromondo all'interno del nostro corpo, che ci sia un fine. Ecco, la categoria di fine, la causa finale, è un qualcosa che va al di là della fisica, come il discorso dell'ordine, se vogliamo, come il discorso del buono, come il discorso del vero, come il discorso... Ma analizzo, il discorso del fine presuppone chiaramente che dietro c'è un'intelligenza. Ah beh, certamente, io su questo Elia non ho il minimo dubbio, anzi, se c'è una cosa che io non riesco a capire, onestamente, è come con tutte le scoperte, con tutti i risultati, con tutte le meraviglie che gli scienziati hanno scoperto nel corso dei secoli, specialmente oggi, dove maggiormente i frutti della scienza ci permetterebbero veramente di inferire l'esistenza di, non dico di un creatore, neanche perché ci vuole un passaggio ulteriore, ma almeno di un legislatore, di un legislatore, di un ordinatore, questo veramente mi stupisce, mi stupisce tanto. Poi è chiaro che nel momento in cui una persona ha una fede, in nostro caso Elia la fede cattolica, scopriamo che non si tratta solo di un legislatore, di un ordinatore o di un architetto, perché a questo arriva, non sappiamo, anche altre correnti, altre persone, ma che si tratta di un creatore, di un creatore. Certo è che, come è sempre stato mostrato dalla teologia tradizionale, per arrivare a Dio ci sono due strade, ovvero sia la via naturale, che è la via che mi porta a scoprire Dio come autore della natura, come ordinatore, legislatore, e poi c'è la via soprannaturale, che è quella della rivelazione, che mi fa capire che questo legislatore, che questo Dio, è anche creatore, quindi ha creato dal nulla. Attenzione, il passaggio dal non essere all'essere non è un passaggio di pertinenza della fisica, ma della metafisica. Se noi pensiamo a qualcosa di come la creazione, ex nichilo, non possiamo pensare a nulla, è un qualcosa che sfugge alle categorie naturali, quindi è qualcosa che, come ci spiega San Paolo, sappiamo per fede, bisogna andare oltre la scienza. Quindi, per tornare un po' e poi per andare avanti, ti lascio immediatamente la parola. Quando la scienza empirica, quella che si riferisce alla natura, alla physis, alla materia, pretende di esaurire il reale, ecco che abbiamo lo scientismo, ecco che abbiamo lo scientismo, quindi la scienza è la vera guida della natura, della realtà ed esaurisce tutti gli aspetti del reale. Quindi è totalizzante, insomma. Esattamente, totalizzante. Io uso questa parola che non so se esista, non so se esista, se sia un neologismo, quello della totologia, totologia, e praticamente è una scienza che si fa tutto, una scienza naturale che si fa tutto, che pretende di esaurire il tutto. Che attenzione però, come avremo modo di spiegare adesso, paradossalmente arriva al contrario di quello che vorrebbe. In che senso? No, spiego, perché è una prova nella mia. Perché nel momento in cui tu sai che con il tuo metodo e per essenza ti sono accessibili determinati aspetti della realtà e non altri e aprioristicamente escludi tutti gli altri aspetti, questo è un atteggiamento antiscientifico. No? È un atteggiamento antiscientifico per cui se io, scienziato naturale, a priori, senza averne prova, senza averne argomentazioni, escludo tutto ciò che va al di là del piano della natura, io adotto un atteggiamento antiscientifico. Sostanzialmente, posso continuare? Vai, vai, vai tranquillo. Ecco, sostanzialmente, nel corso, interessante comunque, vai. Prego? Molto interessante, vai. Sostanzialmente, nel corso, insomma, all'interno delle opere, degli articoli che ho cercato di pubblicare nel corso del tempo, riassumo, perché voglio arrivare veramente a quello che ci può interessare anche per l'attualità, io distingo due approcci, due approcci, approcci della scienza alla realtà, meglio, due approcci scientifici alla conoscenza del mondo. Il primo è quello che dicevamo prima, l'approccio totalizzante, che è assolutista, ha prioristicamente, attenzione, ateo e materialista, pretende di esaurire tutto ciò che è accessibile al metodo empirico, cioè, certo e vero e scientifico è soltanto quello che è misurabile, quindi che ha a che fare con, diceva Galilei, l'estensione, la quantità, no? Poi sappiamo che Locke distingue qualità primarie e secondarie, ma adesso non entriamo in dettaglio su questo. E credo che questo atteggiamento, anche se il suo pensiero non è che sia così lineare perché leggendo le sue opere ho visto un po' delle oscillazioni, si è ben esemplificato questo atteggiamento da una celebre frase del cosmologo britannico defunto Stephen Hawking, defunto qualche anno fa, che nel libro intitolato, un libro divulgativo, è La teoria del tutto, The Theory of Everything, la famosa ricerca della teoria del tutto, cioè la capacità di spiegare la realtà intera con una equazione o poche equazioni al massimo, lui scrive questa frase che io cito testualmente. Nel momento in cui avremo trovato la teoria del tutto, dice, questo sarà il definitivo trionfo della ragione umana, perché allora conosceremo il pensiero stesso di Dio. L'ho letto anch'io quel libro, l'ho letto anch'io quel libro, conosco questa frase. Sì, perché è celebre, è famosa, è famosa. Poi, in realtà, Elia, io devo dirti che nel suo pensiero ci sono dei passaggi che non mi sono ben chiari, nel senso, devo capire quanto fosse lui realmente convinto di questo e quanto non lo sapremo mai, lo sa lui, lo sa lui, non lo sa, e non mi interessa neanche sinceramente entrare troppo in dettaglio. L'altro approccio metodologico è un approccio metodologico scientifico alla conoscenza della realtà e della natura che non è totalizzante, ma che giustamente lascia le porte aperte a un oltre, a un trascendente. e io lo vedo molto in una frase di quello che è il padre della cosmologia moderna che è Georges Lemaitre, cosmologo belga e sacerdote cattolico, avversatissimo nell'Unione Sovietica. Questo è un tema che mi sta molto a cuore perché l'ho studiato personalmente dal momento che non si poteva parlare in Unione Sovietica nell'ideologia del marxismo o leninismo. Infatti tu fai un collegamento tra sistemi politici esatto, non si può parlare di un inizio del mondo in uno stato come l'Unione Sovietica a molteplicità di stati in realtà perché ci fu un blocco nel quale si dice che dogmaticamente la materia deve essere intesa come eterna, autosufficiente, infinita perché lì il creatore non può esistere, chiaro che non poteva non essere avversato, però Georges Lemaitre nel 1929 ricordiamo che è il primo che parla dell'espansione fisica dell'universo, c'erano stati precedenti in Russia stessa fra l'altro da parte di un matematico dove si cercava di sistematizzare di formulare una teoria matematica ma il primo che connette i dati con la teoria è Lemaitre, scrive, anche qua cito perché è una frase molto bella, molto bella, non è possibile dice alla fine della conferenza, immaginiamocelo davanti a un pubblico insomma che sta ascoltando le sue novità scientifiche, non è possibile terminare la rapida panoramica che abbiamo fornito sull'oggetto più grandioso che possa tentare il genio dell'uomo che è l'universo lui era proprio veramente appassionatissimo è cosmologo senza sentirci fieri dei magnifici sforzi della scienza per la conquista della verità lui scrive scienza perché poi pubblica il testo con l'S maiuscola se finisse qua uno dice vabbè anche lui esaurisce tutto sul piano scientifico no 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 e senza esprimere altrissì la nostra gratitudine verso colui che ha detto io sono la verità non è che ci siano dubbi su questo e che ci ha donato l'intelletto per conoscerlo e per leggere un riflesso della sua gloria nel nostro universo che egli ha così meravigliosamente adattato alle facoltà conoscitive che ci ha donato questo è l'atteggiamento più scientifico che esista io so che esiste una via naturale alla verità che è quella la verità insomma naturale la verità della scienza naturale e poi che c'è anche un altro piano fra parentesi a me preme sottolineare come questo autore Lemaître che viene passato come il padre della teoria del Big Bang in realtà lui non parla di Big Bang parla dell'ipotesi dell'atomo primitivo era talmente utile umile chiedo scusa talmente umile che non parla mai di teoria dell'atomo primitivo a mia conoscenza che ho potuto tradurre i suoi scritti pubblicarli dal francese eccetera in italiano molti non c'erano non c'erano a mia conoscenza tranne una volta e secondo me lo fa per distrazione lui parla di ipotesi come dire io vi propongo una lettura che potrebbe essere smentita cioè è un atteggiamento di una scientificità e di un'umiltà incredibili incredibili così deve fare lo scienziato non pretendere di dire parola definitiva evoluzionismo si chiude la porta poi vengono chiamate teorie quelle che sono ipotesi ma esatto esatto anche nei miei video allora io mi sono occupato molto della appunto della teoria del Big Bang però nei miei video e nei libri io cerco sempre di parlarne come di un'ipotesi di lavoro che non può essere la parola ultima nel senso che tra cento anni Elia magari rideranno del fatto che noi abbiamo pensato per decenni e decenni e decenni che l'universo si è iniziato con uno scoppio quindi come deve essere interpretata come l'ipotesi di lavoro che attualmente meglio spiega i dati meglio spiega i dati che potrebbero un giorno trovare un'altra spiegazione allora quello che volevo dire confrontando questi due approcci scientifici alla conoscenza del reale è che il naturalismo il materialismo non è un esito necessario della ricerca scientifica non è un esito necessario quando si mantiene sul piano della physis materiale la scienza naturale fa quello che deve fare dal punto di vista metodologico perché quello è il suo settore per essenza per metodo ma non può chiudere le porte all'oltre non può chiudere le porte alla metafisica pretendendo di aver dato la parola definitiva su tutto questo è il punto ecco questa non è una visione una visione abbastanza meccanica del tutto la visione scientifica cosiddetta non è una visione meccanica del tutto aspetta devo è una visione un po' meccanica quella ah certo sì 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 questo voglio dire una visione meccanica proprio che ha un'origine che ha un'origine ecco che origine ha Mauro ecco esatto questo tocca un po' il cuore della nostra discussione dal punto di vista della storia della scienza allora noi dobbiamo dire che fin dalla notte dei tempi sono esistite filosofie materialiste e tra virgolette sui generis ancora all'epoca meccanicistica e allora se io vado a leggere l'atomismo di Democrito vado a studiare quel poco che è rimasto di Democrito siamo parecchi secoli prima di Cristo è già una filosofia materialista dice che ci sono delle particelle inscindibili di materia tra virgolette particelle e lui non usa questo termine però dai dobbiamo semplificare anche le cose che non possono essere ulteriormente scisse dal momento che se io potessi frammentare la materia ad infinitum prima o poi a furia di dividerla arriverei al nulla quindi dice devono esistere delle parti ultime che non possono essere ulteriormente divise atomi dal greco vuol dire l'indivisibile il ciò che non è ulteriormente tagliabile bene e finisce lì quindi il mondo secondo Democrito poi bisognerebbe vedere cosa gli antichi che avessero in mente per mondo ma non è adesso questo il tema importante è un qualcosa di infinito dove nascono e muoiono continuamente mondi infiniti su mondi infiniti per queste dinamiche casuali degli atomi che si aggregano si disgregano quindi il nostro mondo la nostra porzione di universo qui sarà molto più chiaro secondo me Epicuro anche lui sostintore dell'atomismo parla di una porzione di mondo una porzione di mondo nel mondo infinito noi siamo l'esito di dinamiche casuali dei non ce ne sono non si va oltre o meglio no per Epicuro in realtà ci sono ma si fanno i fatti loro vivono nello spazio vuoto tra un mondo e l'altro si fanno i fatti loro non c'è provvidenza noi siamo destinati a morire definitivamente nasciamo per caso e moriamo per caso però il problema di un approccio scientifico assolutista non filosofico è scientifico assolutista empirico nasce nel 600 perché nel 600 noi abbiamo la grandissima rivoluzione nel campo della comunicazione strumentale allora quando io parlo di comunicazione strumentale intendo una cosa molto precisa ovvero sia l'ampliamento dei limiti dei sensi della percezione sensibile a mezzo di strumenti faccio un esempio la fisica ci spiega in maniera chiara ed evidente quella che noi chiamiamo luce luce quella che vediamo con gli occhi non è altro che una porzione piccola di una realtà molto più grande che si chiama spettro elettromagnetico ci sono i raggi UV i raggi infrarossi problema per cogliere le altre porzioni di questo spettro io ho bisogno di strumenti ok quindi ampio ampio i limiti gli astronomi lo fanno per esempio gli astronomi lo fanno per studiare corpi celesti le dinamiche dei gas interstellali eccetera quindi io posso ampliare i limiti della percezione a mezzo di questi strumenti nel 600 ci sono tanti strumenti c'è ad esempio anche il barometro ma sono due gli strumenti osservativi fondamentali il microscopio il cannocchiale assi nel 600 e il cannocchiale che non è invenzione di Galilei niente affatto Galilei è il primo semmai che lo punta nei cieli e attenzione però perché ci sono teorie una volta nell'essi una interessante però non è che sia suffragata è affascinante che non sarebbe vero neanche questo cioè che i primi a puntare una qualche forma di lente verso i cieli sarebbero stati i babilonesi potrebbero essere stati i babilonesi con la famosa lente di Nimrud che è conservata al British Museum di Londra fu una teoria sostenuta dal professor Giovanni Pettinato che deve essere morto qualche anno fa comunque chiudo perché è un'ipotesi affascinante ma permane sul piano dell'ipotesi dicevi che questa comunicazione strumentale a che cosa apporta adesso adesso arrivo Galilei ad esempio osserva con il microscopio e con il cannocchiale solo che ovviamente è famoso per le osservazioni con il cannocchiale più che con il microscopio ma fa anche osservazioni nel micro oltre che nel macro e scrive e scrive ci sono proprio i suoi scritti dobbiamo dire la verità grazie a quegli strumenti nel seicento ci sono delle novità importanti vengono formate nuove scuole internazionali istituzioni l'accademia dei lincei poi la Royal Society con tutta la sua storia dietro che hanno indagato molte altre persone ben più competenti di me e non entro in merito anche riviste di comunicazione di dati eccetera allora come ha scritto un filosofo italiano che è contemporaneo cioè il professor Evandro Agassi io uso una sua frase per poi andare oltre quello che ha detto lui sia chiaro non è che stia attribuendo a lui uso una terminologia nasce nel seicento un nuovo orizzonte di oggettività cosa vuol dire che oggettivo cioè scientifico scientifico in quel momento diventa solo ciò che è misurato legittimato tramite gli strumenti ciò che posso cogliere tramite gli strumenti e tutto ciò che è oggettivo e comunicabile tra i diversi soggetti tra i diversi scienziati in questo caso è solo ciò che è legittimato attraverso l'uso dello strumento quindi la filosofia che si fa in precedenza viene relegata all'ambito di pura opinione personale è un'opinione quindi è la fine dell'oggettività in campo scientifico gradualmente si sarebbe giunti vorrei fare anche un esempio che attiene la cosmologia fra breve si sarebbe giunti a una scienza come qualcosa di puramente quantitativo 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 misurabile cioè è scienza ciò che è misurabile e lo strumento infatti nonostante nasca attenzione da teoria perché in uno strumento c'è tantissima teoria ci mancherebbe per costruire un cannocchiale non è che io vada a caso mi ci vuole la teoria devo studiare le leggi della rifrazione devo conoscere le dinamiche della luce quindi in un certo senso lo strumento si può dire che è anche teoria materializzata però allo strumento è accessibile solo l'aspetto misurabile solo l'aspetto quantitativo non le categorie metafisiche della sostanza della causa dell'ordine della finalità e l'errore l'estremizzazione di questa comunicazione strumentale ha pensato ha portato la comunità scientifica internazionale se così si può dire se così si può dire Elia dell'epoca a pensare che tutto ciò che non fosse accessibile allo strumento fosse non più di pertinenza scientifica quindi cominciano a porsi le basi di un approccio scientifico totalizzante è sintomatico secondo me il caso quindi scientista sotto certi aspetti no? non ho capito che lo scusate scientista ah certo certo la scienza si trasforma in scientismo assolutamente assolutamente e ti dirò anche di più c'è un esempio che è quello dell'orologio allora l'orologio non nasce nel 600 nel senso che strumenti per la scansione del tempo esistono dalla notte dei tempi non nasce nel 600 però nel 600 ci sono macchine sempre più precise per misurare il tempo per esempio l'orologio a pendolo per esempio l'orologio a pendolo questo produce un impatto sociale enorme sulla scansione delle ore del giorno ma anche delle attività lavorative enorme però ebbe anche risvolti sul campo della cosmologia perché è qui è nel 600 che comincia a farsi grande forza grande forza l'immagine il modello diciamo pure come vogliamo dell'universo orologio cioè dell'universo macchina cioè il fatto che questa grandiosa macchina che è l'universo sia stata costruita da un un orologiaio un orologiaio no? però attenzione perché una volta costruita viene lasciata a sé quindi io do la costruzione iniziale costruisco il pendolo le molle eccetera poi l'abbandono esatto e me ne frego e me ne frego in un certo senso chiaramente per un cristiano non è un'immagine inaccettabile perché vuol dire che la provvidenza non esiste che i miracoli non esistono che praticamente ci serve quel dio dal punto di vista strumentale per dare l'input iniziale no? e poi affari suoi no? cioè affari dell'universo affari affari nostri questa è la posizione di Cartesio ma questa è anche la posizione del giovane Kant certo uno dice ma no ma Kant dice che di cosmologia non si può è vero però ricordiamoci una cosa importantissima qui parlo anche di storia della filosofia ma per chi è più interessato ai temi di filosofia credo che possa essere utile il Kant della critica della ragione pura effettivamente scrive semplifico al massimo che noi non possiamo avere certezze definitive sulla costituzione dell'universo se sia finito infinito eterno nato nel tempo se tutto sia necessario ci sia la libertà eccetera ma il Kant giovane prima di arrivare a questo nel 1755 scrive un'opera che per certi versi Elia è interessantissima devo dire la verità che si chiama Algemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels traduco teoria generale teoria generale della natura no scusa storia naturale generale e teoria del cielo dove lui parla della costituzione di diversi sistemi stellari nell'universo infiniti in un universo che sostanzialmente è stato sì creato da Dio ma poi lasciato a sé poi lasciato a sé e da qui ad arrivare all'idea che l'universo sia completamente che la materia sia completamente autosufficiente autonoma ed eterna il passo è molto breve e ci si arriverà con le teorie materialistiche anche del 7-800 il materialismo dialettico prima abbiamo parlato di Unione Sovietica che è la filosofia per ammissione non è un'opinione per ammissione di Stalin di Lenin dei vari personaggi il materialismo dialettico è la filosofia di riferimento del partito comunista del marxismo-leninismo punto quindi non si può parlare di Dio di andare oltre quella è quella se io aderisco alla filosofia del marxismo-leninismo io aderisco anche al materialismo altrimenti c'è qualcosa che non va il comunismo che non è mai morto anzi attenzione ah lo so è molto presente ah lo so anche da noi è molto presente lo so anche se ben camuffato alcune volte è certo e quello che secondo me quello che è ben vivo è nel comunismo anche attuale possiamo dire quell'atteggiamento scientista che nasce dalla notte di tempo perché alla fine il materialismo dialettico non è che sia nato dal nulla quando Lenin nel 1909 in materialismo ed empirio criticismo scrive il mondo non è nient'altro che materia in movimento in mutamento in evoluzione lui ha preso le mosse da qualcosa non è che se lo sia inventato stessa roba farà Stalin anche se non lo si sa Stalin ha scritto una miriadi di volumi filosofici ma tanti 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 e parla anche di materialismo dialettico ma torniamo a lui torniamo a noi nel 600 oltre all'immagine della della natura macchina c'è anche quella della natura libro che è certamente se vogliamo più feconda dal punto di vista filosofico è di Galilei stiamo parlando del saggiatore di Galilei io leggo questo libro che mi potrebbe rimandare all'autore di un libro e sì è vero in parte però c'è anche un'insidia nascosta in questo allora Galilei dice che la natura è un libro che è scritto secondo determinati caratteri ma per comprendere la natura io devo conoscere il linguaggio in cui la natura è scritta che è quello matematico geometrico chi non ha accesso a questo linguaggio non può conoscere la natura lui scrive cito dal saggiatore il saggiatore la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi io dico l'universo ma non si può intendere se prima non si impara a intender la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto e gli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli cerchi ed altre figure geometriche senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto quindi chi non conosce la matematica non ha accesso alla natura allora io posso fare un piccolo commento su questo? certo io sto zitto non dico quello che penso i Galilei ma chi mi segue insomma l'ho detto ma guarda che me ne sono occupato anch'io anche nei corsi di filosofia innanzitutto ci sarebbe da dire tutto quello che va detto sul suo processo che non è come ce lo insegnano assolutamente c'è una storia molto complessa molto complessa anche perché Galilei che nelle sue opere si definisce cattolico sia chiaro si definisce cattolico questa è un'abilità che tanti hanno ecco uno dei motivi del processo di Galilei fu ah ma no non è più la terra al centro dell'universo è il sole ma non scherziamo non banalizziamo ma dai ma su via non banalizziamo le cose c'è anche una questione di atomismo di atomismo cioè di accettazione della filosofia atomistica che porta attraverso una serie di insomma di passaggi scientifici alla negazione della transustanziazione alla negazione della transustanziazione però insomma ne parliamo magari ne parliamo ne parliamo in un'altra 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 che il tema merita un po' di approfondimenti Mauro ecco quello che io volevo dire Elia è che io posso capire la reazione che molti scienziati all'epoca ebbero riguardo all'atteggiamento ostinato di certi attenzione non tutti certi aristotelici perché effettivamente c'era bisogno dal punto di vista dell'indagine naturale di fare dei passi avanti certamente faccio un esempio allora ancora nel 600 si spiegava la caduta dei pesi con la teoria dei luoghi naturali per esempio il sasso cade verso il basso non perché ci sia una qualche legge una forza quello che è ma perché il suo luogo naturale che ama che ama è proprio il basso quindi la fiamma tende verso l'alto perché il suo luogo naturale è quello più in alto oltre l'aria addirittura io posso capire che un atteggiamento di questo tipo portato all'ostinazione dà fastidio dà fastidio nel senso che quando Galilei cerca di fornire alcuni dati visti attraverso il telescopio non trova dappertutto terreno fecondo lo trova presso il papa urbano il papa urbano è dispostissimo all'inizio è dispostissimo è dispostissimo poi però Galilei va oltre certi limiti vabbè ma lasciamo ma lasciamo perdere problema se io estremizzo questo arriviamo a quello che dicevamo prima ah sì voi non accettate allora vuol dire che la scienza è solo questa voi avete qualcosa da nascondere eccetera eccetera e quindi si arriva alla scienza materialista atea e allo scientismo Galilei scrive chiaramente nelle sue opere di non tentare l'essenza cioè noi delle scienze non dobbiamo più occuparci allora vuol dire che tutta la filosofia fino a quel momento chiedo scusa ad esempio San Tommaso è spazzatura è da buttare via se c'è uno che si è occupato dell'analisi del concetto di materia di sostanza la differenza fra sostanza accidente che ci ha spiegato benissimo il miracolo della transustanziazione è San Tommaso devo gettarlo via allora a quel punto però in realtà quello che ha fatto la scienza è sostituirsi anche alla religione perché è la nuova religione certamente certamente è la nuova religione dalla quale io mi attendo addirittura Elia per venire anche all'attualità la sconfitta stessa della morte la sconfitta stessa della morte se possibile magari uno potrebbe dire ma dai adesso esagerazione nessuno l'ha mai messo per iscritto eh stiamo attenti stiamo attenti anni fa anni fa uscì non ricordo quanti anni fa una copertina del time no in cui sulla prima pagina ne ho parlato anche in uno dei video che ho pubblicato sul canale c'era scritto in inglese 2045 l'anno in cui diventeremo immortali o l'anno in cui l'uomo diventerà immortale quindi c'è questa voglia di affidarsi alla scienza anche per eliminare eliminare quelli che sono i limiti della natura umana cioè ragazzi mettiamocela via peccato originale la caduta ci porta a essere mortali feribili a essere esseri sofferenti come diceva papa leone tredicesimo nella sua enciclica la rerum novarum bellissima straordinaria la sofferenza non è un qualcosa di contingente legato a un dato specifico perché c'è una classe cattiva che che opprime i proletari la classe operaia no no è un dato della natura umana nel senso che ferita dal dal peccato dal peccato originale allora è attraverso la scienza che noi speriamo di diventare sempre più anziani di poter diventare sempre più anziani non si sa poi bene per fare cosa no e addirittura se possibile di diventare immortali o ci attendiamo con la scienza di instaurare un paradiso un paradiso sulla terra sconfiggere tutte le malattie il problema della povertà no no francamente se poi nella pratica si va in direzione opposta eh sì adesso a me a me fa ridere a me fa ridere ad esempio ehm l'atteggiamento fa ridere no non fa ridere mette molta tristezza molta molta tristezza l'atteggiamento di chi ehm in tempi recenti anche ha voluto parlare della difesa della vita di questa categoria di persone di quell'altra poi però se uno parla dell'aborto non c'è problema e beh eh no eh no un attimo la difesa della vita poi però se uno parla dell'eutanasia non c'è problema insomma un attimo ehm l'assistenza ai poveri poi però ci vengono a dire che c'è la sovrappopolazione siamo troppi per rispetto alla dignità umana lasciamo passare la pedofilia per rispetto alla dignità umana eh sì sono veramente sono bravi la loro specialità è conciliare gli opposti questa è la loro la loro abilità ecco invece la scienza come dovrebbe essere la scienza che cosa possiamo considerare scienza realmente Mauro allora questa è una domanda importantissima noi prendiamo la definizione tradizionale filosofica di scienza come cognizio certa rerum per causas cioè la scienza è una ricerca che abbia una conoscenza certa delle cose per mezzo delle loro cause questa definizione trascende ciò che è materiale perché perché nonostante oggi possa generare orrore orrore ma nelle menti non preparate su questo tema evidentemente il teologo è uno scienziato sant'omaso d'aquino è uno scienziato no è un teologo benissimo sant'omaso d'aquino era un teologo dunque sant'omaso d'aquino era uno scienziato nessuna paura a fare l'equivalenza perché perché la teologia è una scienza faccio è un esempio è un esempio perché prende le mosse dalle verità rivelate prende le mosse dalle verità rivelate ma tramite l'indagine razionale cerca di arrivare di portare a luce quello che è il rivelato virtuale cioè il rivelato virtuale è il dato implicito nella rivelazione che però deve essere portato allo scoperto esempio banale dai testi dalla rivelazione noi sappiamo che Maria la santissima vergine è madre di Gesù sapendo che Gesù è Dio noi sappiamo che Maria è madre di Dio d'accordo una derivazione veramente semplice poi arriviamo anche a Maria mediatrice subordinata e secondaria naturalmente rispetto a Gesù e tutto quello e tutto il resto il procedimento teologico è un procedimento scientifico che si basa su argomentazioni razionali naturalmente la conclusione teologica poi deve essere approvata dalla Chiesa dal Papa non è che un teologo possa lavorare per i fatti suoi ah sono arrivato e poi la mia conclusione è necessariamente vera no no deve essere approvata c'è tutto un percorso quindi la teologia è una cognizio certa perché si basa sulla solidità del procedimento della ragione per causas perché muove da principi che sono gli articoli di fede rivelate da Dio certa perché si basa sulla ragione illuminata dalla fede quindi quando io sento ma non io quando si sente parlare dell'incompatibilità tra scienza e fede o meglio tra scienza e teologia è insomma no anche lì ci sarebbe da approfondire qualcosa è scienza una ricerca è scienza nel momento in cui risponde a tre requisiti io qua prendo l'analisi che aveva fatto un professore che è il professor Roberto Timossi un filosofo italiano molto molto famoso fra l'altro il quale durante una conferenza a Roma la quale aveva modo di partecipare tra il pubblico mi disse una cosa interessante guardate che una ricerca diventa scienza nel momento in cui risponde a tre requisiti primo devi avere un oggetto di riferimento che non è necessariamente empirico la teologia la matematica forse la matematica ha un oggetto empirico di riferimento no eppure è una scienza ma sappiamo quante analisi matematiche completamente distaccate insomma dalla realtà vengono fatte al giorno d'oggi simulazioni eppure è una scienza secondo devi applicare un ragionamento logico io devo mostrare la coerenza fra premesse e conclusione certo è fondamentale terzo uno statuto epistemologico come funziona quella scienza la fisica ad esempio si basa su due parti che sono la teoria ma anche l'osservazione l'esperimento questo è c'è uno statuto epistemologico e la base fondamentale della scienza è in realtà una filosofia che è il realismo allora il realismo è la dottrina o posizione o posizione filosofica secondo la quale esiste una realtà oggettiva che è indipendente dalla mente che è indipendente dal soggetto e che per di più è intelligibile che è intelligibile noi quando osserviamo l'universo osserviamo una serie di movimenti di mutamenti però sappiamo che al fondo di tutto ecco qua la filosofia ecco la grandezza della filosofia della metafisica vi sono delle leggi stabili che governano questa generazione questa corruzione perché altrimenti io non potrei neanche fare scienza se non ci fossero degli elementi stabili come potrei fare scienza sarebbe sarebbe possibile praticamente vivremo in un mondo continuo di movimenti dovremmo rinunciare rinunciare alla conoscenza Aristotele nella metafisica scrive una cosa importantissima se facciamo decadere alcuni principi primo fra tutti il principio di non contraddizione poi possiamo dire tutto il contrario di tutto e possiamo dire questo se non ci fossero elementi stabili il principio di non contraddizione in filosofia è un elemento stabile possiamo dire tutto il contrario di tutto allora la scienza diventerebbe un giocattoletto in cui ognuno può dire quello che vuole in pratica noi viviamo in una realtà che ha abbandonato il principio di non contraddizione talmente abbandonato queste sono le conseguenze naturalmente quindi Mauro che cosa che cosa consigli per capire sempre di più in queste cose che cosa si può fare oltre magari possiamo fare qualche altro video ma che cosa consigli che cosa magari può non interessare a tutti ma sono convinto invece che tante tante persone sono molto interessate perché hanno capito che stiamo parlando di qualcosa che è alla base bisogna comprenderlo proprio altrimenti non siamo in grado di capire nemmeno questa realtà non siamo non siamo capaci di leggerla ci facciamo veramente manipolare abbindolare corriamo dietro illusioni personaggi scusa questo lo aggiungo io ma mi sento no no ti do ragione ti do ragione perché se non abbiamo degli strumenti e degli strumenti anche intellettuali e non ce la possiamo fare a parte la fede ma servono anche degli strumenti intellettuali proprio quindi che cosa si può fare so che tu per esempio hai un diverso tempo fa già da qualche anno eh porti avanti un'iniziativa importante che è quella ne avevamo parlato ne avevi parlato davanti ad una pizza io la fammi ricordare fammi ricordare bene allora ecco il primo la mia prima venuta a Pornace mi portaste a mangiare una pizza in un bel posto eh c'ero io tu e la tua ex fidanzata che poi è diventata tua moglie e tu vedi ho intenzione di creare questa scuola di filosofia io le dissi bellissima poi l'hai veramente fondata perché era un tuo desiderio quindi però magari chi non chi non conosce questa iniziativa eh perché non ne ha sentito parlare ma ci puoi dire qualcosa come è nata perché a chi si rivolge perché partecipare allora guarda non scotta la scuola ci mancherebbe altro certo stiamo semplicemente dicendo che non è vero che non ci sono degli strumenti ci sono e c'è qualcuno anche che si eh che si adopera per metterli a disposizione uno di questi è Mauro io ho fatto anche un'intervista a Carlo Carlo Di Pietro in realtà si dà si dà un grande affare a pubblicare anche con grande impegno e magari rimettendoci pure dei libri importanti un piccolo editore già non guadagnerei grandi figuriamoci piccoli quindi io a me piace proprio proporre queste persone che portano avanti delle iniziative utili per chi vuole veramente capire quindi ecco perché te lo chiedo non prepara uno spot a me non interessano gli spot francamente e non lo farei mai quindi perché com'è nata questa iniziativa Mauro che si rivolge perché partecipare allora guarda io sono ben ben felice di rispondere a questa domanda io credo che eh una delle cose delle cose fondamentali potendo potendolo fare eh potendolo fare eh è cercare di mettersi a disposizione del prossimo penso sia un atteggiamento cristiano come meglio si può c'è chi lo fa con la carità materiale la carità se è fatta verso il prossimo per amor di Dio dà dei meriti incredibili su questo per esempio il libro di Tobia dell'Antico Testamento è chiarissimo ce ne parla Nostro Signore incredibili quindi non stiamo parlando della filantropia eh stiamo parlando della carità verso il prossimo fatta per amor di Dio c'è chi fa assistenza di altro tipo anche fare una professione svolgendola bene sinceramente è una forma di carità se vogliamo eh nel momento in cui io svolgo bene la mia stessa professione vale per chiunque per amor di Dio perché è il mio dovere di stato oltre a essere non lo so un marito chi è padre un padre eccetera io non lo so sono artigiano porto avanti con me anche quello è dei meriti infiniti potendolo fare dicevo c'è anche chi può cercare di mettere a disposizione qualcosa di intellettuale qualcosa di intellettuale allora nel caso personale non è a me non piace parlare di me però mi hai fatto la domanda allora cerco di ogni tanto bisogna farlo però no ma vabbè no no ma va benissimo va benissimo e il mio il mio sogno sarebbe sempre stato quello di avere un posto di insegnamento non ci sono riuscito per vari motivi adesso ne abbiamo parlato ma non mi interessa dai anche di approfondire non ci sono riuscito però ho detto ma perché se non sono riuscito a trovare un posto in una istituzione ufficiale non posso far nulla perché non posso mettere a disposizione quello che studio quello che leggo in altro modo allora è nata l'idea della scuola di filosofia e questa scuola di filosofia non fa altro che prendere determinate tematiche scientifiche o grandi autori possono essere Aristotele può essere San Tommaso possono essere anche scienziati scienziati credenti ce ne sono una marea nel corso della storia una marea e cercare di esporre di dare una visione anche alternativa delle cose specialmente nella società di oggi dove principi dell'etica naturale non ne abbiamo più principi tradizionali cristiani sono stati messi da parte cerchiamo di mostrare delle filosofie che possono anche aiutarci ad orientarci nel nel reale questa è la missione chiamiamo proprio missione della scuola di filosofia di fornace che è rivolta a tutti 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 chiunque voglia chiunque voglia io quando propongo i vari corsi ultimamente li ho proposti online ma non per il discorso non si creda del discorso di di restrizioni no 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 perché l'online che può essere anche uno strumento che purtroppo ci distanza socialmente però per queste cose può anche avere dei vantaggi e permette di dare la possibilità a persone che magari vengono da fuori regione o vivono altrove di connettersi collegarsi e frequentare questi questi corsi l'unico requisito che io richiedo personalmente è l'interesse alle tematiche non richiedo che uno abbia studiato questo assolutamente ci mancherebbe ma quante cose io non so di varie discipline quante cose non so e più studio più mi rendo conto che sono ignorante ma lo dico con onestà più studio più mi rendo conto che ci sono cose che non saprei neanche spiegare e sulle quali mi pongo solo degli interrogativi quindi l'interesse e la volontà anche di acquisire degli strumenti per giudicare con sguardo critico serio e anche sereno la realtà e tutti gli accadimenti contemporanei lo sguardo del cristiano dello scienziato cristiano del filosofo cristiano non si creda che sia uno sguardo ingenuo è anche uno sguardo critico molto critico molto critico un esempio allora quando prima abbiamo parlato degli strumenti moderni microscopio e cannocchiale allora si dice ah ma i cardinali dicevano che nel telescopio nel cannocchiale c'era il diavolo che quello che si vedeva le macchie solari erano invenzioni del demonio era Galilei che aveva e non è solo così non è ci fu anche chi fece questo ci fu anche chi fece questo ma molti cardinali avevano uno sguardo critico molti personaggi dicevano vero però attenzione che uno strumento come il microscopio c'erano anche tanti scienziati che dicevano questo nasce per divertismo cioè era uno strumento anche di intrattenimento nelle seicento delle famiglie agiate quindi c'era anche questo aspetto dice ma come volete fare scienza utilizzando un giocattolo uno strumento di intrattenimento poi è vero ci sono tutte le cose da dire quindi mi da anche uno sguardo critico o ti faccio un altro esempio l'evoluzionismo l'evoluzionismo allora in tutti i testi di biologia tutti tutti mi spiegano le cellule la straordinarietà degli amminoacidi che si mettono assieme con combinazioni particolari per formare le proteine mi spiegano i cromosomi mi spiegano la differenza abissale fra la cellula vegetale e la cellula animale affascinante poi capitolo sull'evoluzionismo quindi brodo primordiale la vita che è nata dalle acque quindi la materia inerte c'è il salto automatico un po' quello che dicevano anche i sovietici è salto dialettico si passa dalla non vita alla vita la vita sempre superiore e così via quindi estremamente utile dicevi questa e quando quando iniziano questi corsi posso dire posso dire un'altra cosa Elia scusa dopo consiglio consiglio che io do a tutte le persone io cerco di farlo anche nei video approfondire tutte le questioni trattate cioè Elia il pubblico che vede i nostri video i miei o i tuoi non deve necessariamente fidarsi di noi può ascoltare e poi l'invito che io faccio sempre è ad approfondire cioè noi cerchiamo di dare degli spunti poi uno approfondisca studi per quanto può il problema poi è su quali fonti si va ad approfondire e questo è un tema esatto esatto benissimo allora qua ci sarebbero delle proposte e non guardare la televisione è banale è banale però possiamo dire non guardare la televisione se proprio uno deve leggere dei giornali che ne faccia una lettura molto critica allora la televisione ha un impatto emotivo manipolativo enorme enorme i giornali qualcosa di meno però però insomma possono se la cavano molto bene se la cavano molto bene noi abbiamo uno strumento che può fare tanto male che è internet perché può fare tanto male lì ha tantissimo vediamo il rapporto tra la gioventù e internet specialmente certi siti certi programmi veramente strumento del demonio ma che può fare anche molto del bene perché comunque su youtube si trovano anche persone preparate che si mettono a disposizione e che si prendono anche una marea di critiche per esempio per il solo fatto di non aderire a una certa teoria o essere credenti per cui vale la pena bisogna prendersi il tempo di spulciare di esaminare di leggere magari di prendersi appunti e di approfondire e poi io consiglio sempre consiglio sempre anche per chi può non siamo tutti non siamo tutti chiamati a essere intellettuali a essere insegnanti professori assolutamente no però chi può cerchi di studiare gli autori fondamentali ad esempio il 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 cattolico studi il catechismo di San Pio X lo studi perché le prove dell'esistenza nel commento per esempio di Padre Dragone le prove dell'esistenza di Dio ci sono poi uno può andare a studiare gli esempi gli esempi ci sono se uno può ha una preparazione un po' più approfondita si prenda il tempo di leggere San Tommaso lo so che è difficile lo so è una lettura molto impegnativa per completare un volume uno una parte della Somma Teologica passano anche mesi e mesi e mesi ma non è quello il problema la formazione si possono leggere anche due o tre pagine al giorno l'importante è alimentare continuamente con delle letture sane quindi non c'è bisogno di leggere 50 pagine al giorno esatto vengo alla domanda che mi hai fatto alla quale non ho risposto cioè del corso del corso di Pino so che iniziano solitamente in autunno però esattamente la data non la conosco quindi ce lo chiedevo anche per informare chi guarda questo video insomma dunque funziona funziona così io vorrei fare anche poi una presentazione sul mio stesso canale dove mostro tutti i temi qua però qualcosina lo posso anticipare allora mi piacerebbe fare un corso incentrato sulla prima parte della Somma Teologica la prima parte della Somma Teologica sostanzialmente è riferita alla conoscenza di Dio occhio però a conoscenza di Dio che comprende anche la conoscenza della creazione rapporto tra mondo e Dio anche il tema degli angeli il tema dei demoni la caduta il peccato originale quindi e anche l'ipotesi Santo Maso ne scrive interessantissimo come avrebbero potuto vivere gli uomini senza peccato originale si parla dei corpi gloriosi se uno legge il compendio di teologia di Santo Maso ci sono tantissimi tantissimi temi allora il corso sarà online io vorrei farlo partire vorrei farlo partire il 14 ottobre adesso non ho ancora deciso vorrei un attimino pensarci però tanto siamo a livello di preiscrizioni e se farlo il giovedì o il venerdì o il venerdì sera comunque l'orario approssimativo sarà quello dell'anno scorso 20 e 45 22 e 15 indicativamente 10 lezioni mi piacerebbe partire però con un numero minimo di iscritti che io quantificherei in una in una almeno in 15-20 persone per iscriversi per preiscriversi l'unico modo possibile è inviare un'email al mio indirizzo che è mauro.stenico chiocciolayahoo.it che è quello classico insomma che comunico in vari video della scuola chiaramente la preiscrizione non è vincolante nel senso che uno può ricevere il programma vedere se interessa informazioni costi poi può anche decidere eventualmente di partecipare di partecipare o no comunque il tema è quello che abbiamo detto scusa scusa tu mi hai anticipato i contenuti del corso io me li sono guardati e ho trovato vabbè a parte che è tutto interessante ma ho trovato al punto 12 qualcosa che mi ha incuriosito ah ecco sì leggilo leggilo e io ho letto qualcosa di Alberto Magno per quanto riguarda questo argomento quindi che cos'è l'astrologia razionale bene allora io questo tema vedere com'è ricco questo corso non è che vi sto non è che ve lo sto vendendo ci mancherebbe ma è veramente ricchissimo a me piacerebbe proprio che Mauro veramente ce l'illustrarse ma faremmo notte quindi lasciamo stare corso veramente ricchissimo 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 allora guarda domanda molto interessante si distingue nel corso del tempo un'astrologia giudiziaria chiamata poi in vari modi da un'astrologia razionale allora l'astrologia giudiziaria è quella che ha a che fare sostanzialmente con la magia e con l'occultismo nel senso che dalla posizione dei corpi celesti dalle loro dinamiche io inferisco quello che sarà il destino ultimo di una persona quindi è quella degli oroscopi in sostanza e al di là di quella degli oroscopi sì 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 praticamente certo sì sì assolutamente non è una roba da pseudo fattucchiere c'è c'è un discorso anche di esoterismo ci siamo capiti ci siamo capiti ecco e questa è l'astrologia giudiziaria quindi praticamente ripeto l'influsso dei corpi celesti è determinante sulla vita della materia e dello spirito della persona ma anche sulla vita degli imperi delle civiltà eccetera questo non può essere accettato da un cattolico non può essere accettato da un cattolico perché io commetterei un errore grave arriverei a dire che la materia i corpi celesti hanno potere sullo spirito sull'anima un potere determinante allora il libero arbitrio non esiste più e allora veramente anche il cattolicesimo è una barzelletta sarebbe una barzelletta quindi poi c'è l'astrologia razionale che non è altro che quella che in fondo è l'astronomia nel senso che all'epoca si parla anche di astrologia razionale ovvero sia il contadino quando non c'erano calendari di un certo tipo guardava la posizione dei corpi celesti per capire quando si potesse procedere alla semina alla raccolta eccetera gli egiziani gli egiziani penso un po' sapevano che il sorgere al mattino della stella Sirio coincideva con la piena annuale del Nilo in antichità la stella spica della costellazione della 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 vergine la visibilità in una certa zona del cielo coincideva con il fatto che allora si potesse mettere il grano così come c'era la stella Vendemmiatrix che era quando potevo procedere insomma alla raccolta a fare il vino raccogliere l'uva eccetera eccetera quindi stiamo intendendo in un certo senso l'influenza dei corpi celesti da un punto di vista fisico non occultistico non esoterico Sant'Omaso parla di questa astrologia ne parla diffusamente perché vuole assolutamente distruggere quell'idea appunto che non è solo cinque, seicentesca quattrocentesca c'è da sempre da sempre da sempre tale per cui i corpi celesti abbiano un influsso come dicevamo prima determinante sulla vita dell'anima no possono avere un influsso sulla vita dei corpi ma certo è il sole il sole la mancanza del sole sull'umore quando è una giornata brutta ha dei risvolti enormi ma possiamo da qui dire che allora determinerà il fatto che io diventi un assassino diventi mi salvi mi danni assolutamente no quindi c'è una possibilità di studiare l'astrologia da un punto di vista razionale serio che è vicino all'astronomia alla fine bene Mauro io ti ringrazio se vuoi aggiungere altro fai pure ci mancherebbe ma guarda io direi che abbiamo già detto molte cose lì a quindi ci sono tanti spunti eventualmente rimaniamo anche a disposizione se ci fossero delle domande via email successivamente o anche per altri video per affrontare questioni toccate qui via mail magari io nei video metterò la tua mail perfetto ma anche per chiedere informazioni sui corsi sulla partenza su altre cose no ma io volevo fare qualcosa in più cioè volevo fare in modo che questa che queste questi video diventassero magari se ci riusciamo ovviamente perché insomma non è che abbiamo anche altre cose da fare ma diventassero un appuntamento periodico non promettiamo niente a breve però magari un appuntamento periodico perché ritengo che effettivamente Mauro abbia tante 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 cose interessanti da dirci una persona molto preparata lui è umile ci mancherebbe altro però io insomma sono sempre rimasto affascinato dalla grande preparazione che ha che ha Mauro visitate anche il suo canale che è la scuola di filosofia di fornace e magari ci vedremo anche prossimamente sempre qua sul mio canale per per trattare qualche altro argomento intanto io ti ringrazio Mauro grazie a te Elia dell'invito grazie molte è stato un piacere ma dico scusa ci conosciamo da anni perché non facciamo qualche video insieme abbiamo combinato e abbiamo cominciato esatto va bene grazie a chi vedrà questo video grazie a te Mauro e alla prossima ovviamente un saluto a tutti arrivederci grazie a te grazie a te